Ciao a tutti, sono Giacomo Alavolta, pittore del quinto stile, e oggi vi presenterò Marie e Julie, le due vecchie marchicianelle. Marie, ah, ho sentito l'allù del giornale che ci sta a un programma che si chiama Face e bocca. Julie, ma spiegami meglio del suo programma. Allora, tu sapevi che sul suo programma ci sta tante persone, c'è tipo, ci sta tante, ci sta le donne, ci sta i ragazzi, ci sta i maschi, i frighi, no, perché le frighi ci può bocca, ci sta tante milioni di persone. E tu che pensi che ci potremmo iscrivervi pure noi? Beh, ci sta tanti problemi, ma ci sta gli effetti collaterali. Peggio, peggio delle pomade? Ah, guarda, proprio peggio delle pomade. Secondo ti metti una pomade che dopo ti fa effetti collaterali, qui su è peggio il suo programma, anche perché guarda il nome, Face e bocca. Che pensi che è Face e bocca? Eh, non lo so, magari ci fa bocca da qualche parte gratis. Oh, oh, Marie, Senna, però ho sentito pure che tra gli effetti collaterali ci sta pure quelli buoni, cioè tipo, a te conosci un sacco di gente, fa amicizie con quelli dell'altra parte dello mondo. Quindi dove vuoi dire che posso conoscere Barack Obama? Eppure poi conosci Barack Obama, poi conosci la Merkel, poi conosci Hollande, Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy qua, Sarkozy qua, Sarkozy qua, Sarkozy qui. E tu che pensi che ci volevo iscrivervi? Allora, io non ci iscrivervi, va, tu che pensi che è meglio lì, la luce comune, oppure lì, non lo so, lì sotto le poste? Ma io devo sapere che se ci serve lo codice fiscale, la carta all'Adeno Sanità. E tu, eh, non lo so, magari ci devo portare la carta l'identità, magari ci chiede Lupin, che io non so che è, ma ha detto che ci sta, la password, lo condatto, ma io non lo so, lo condatto, dopo tu pensi che sarà troppo condattoso? Eh, non lo so, Marie, magari lo condatto ci capita qualche bello ragazzo. Allora, sai che facciamo, Marie? Marie, io mi ci iscrive. Ma ci, io mi ci iscrive. Tanto, Marie, che ci costa noi, che ci costa, io mi la, ci scrivemo, e poi ci imbocchiamo, faccio il boccato e ci scappa, non è stessa cosa? Tanto, eh, va bene, però, non so che cosa ci può succedere. Oh, se è una Marie, io mi ci scrive. Ciao. Ciao.